Siamo nel chiostro di Santa Maria dell'Olmo, quello che diventerà sabato pomeriggio la fase finale, quindi lo scenario della fase finale del contest dedicato al diabete. Sì, diciamo che sabato pomeriggio ci sarà l'evento finale del contest, io dico non al diabete, nel quale ci sarà appunto l'estrazione dei premi messi in palio sul video che è pubblicato su Facebook ed in più ci sarà l'intervento di diversi relatori, sia del campo medico che parleranno delle innovazioni per quanto riguarda questa patologia. Inoltre per i bambini all'esterno ci saranno dei laboratori didattici affidati alla cooperativa Litotore e gratuitamente potranno giocare con la frutta, la verdura. Comunque sicuramente è una cosa molto interessante e ci teniamo che poi la popolazione e i cittadini cavesi siano presenti. Soprattutto su un argomento come il diabete che interessa comunque gran parte della popolazione. Eh sì, il diabete purtroppo è una patologia che sta aumentando, siamo intorno al 60% della popolazione diabetica, proprio perché c'è un'elevata genetica. Noi abbiamo parlato nella domanda del video, parliamo proprio di familiarità della patologia, cioè quanto effettivamente incide il fatto di avere dei genitori che sono diabetici, nonni e quindi questo poi può portare il diabete anche nei giovani, quindi è un diabete giovanile. L'evento di sabato è soltanto il primo di quelli che poi diventeranno gli eventi che si possono ottenere qui a Santa Maria del Lomo. Più che altro la collaborazione nasce con la parrocchia e con la Caritas per aprire un ambulatorio presso la parrocchia. Sì, diciamo che questo è un evento informativo. L'associazione si differenzia su questo. Diciamo che l'evento è informativo e ce ne saranno sicuramente altri, però noi poi cerchiamo di andare anche nel pratico. ed infatti abbiamo cercato di preparare nei nostri limiti, nei limiti del possibile, un piccolo ambulatorio nel quale ospiteremo diversi professionisti che gratuitamente metteranno le loro competenze a disposizione della popolazione. A breve cercheremo di dare anche delle date precise e le modalità di prenotazione che poi la Caritas metterà a disposizione per le persone.